Ragazzi, finalmente siamo tornati, mappa futuristica, Eren, Dani, Eme, Tano, Timen, e Tec, quindi si parte. Raga, direi che siamo pronti, come ai vecchi tempi, e andiamo! Ma Tec è partito! Ma sì, ho già messo anche il timer! Ah però, ma come, quando? Sei partito prima, eh! Guarda che adesso non puoi andare nei box, perché... Oh no! Questa è la Formula 1! Che poi non esiste sta penitenza. Ma quando mai, infatti? Lo sanno tutti che quelli che fanno la falsa partenza su Formula 1 vengono frustati nel camerino. Come è giusto che sia. Raga, qua è un gran bel ricordo. No, Eren, no, Eren. No, Eren. Uno che ci prende gli schiafi degli Antaro. Ma Eren è andato come al solito nel solito posto? Ovvio. Io ho già itato Tano. Ok, fatti vedere se cercherà, fatti vedere. Quel malandriggio. Ha paura, ragazzi, non si affaccia, ha paura. Adesso io non vorrei fare un paragone brutto, però Eren è un po' come quelli che vanno sempre a farla nello stesso posto. Raga, ma l'abitudine serve. Affacciati, dai. Metti like se tu vuoi farla a casa di Paolo. Ecco. Buon olis. Se ti ricordi questa pubblicità. Ma infatti, domanda. Ma quando siete a scuola? Senti che domande nel 2019 che ha Tech. Quindi siete a scuola, già. Voi, quando andate in bagno, andate sempre nello stesso bagno? Io sì, Tech. Eh, vedi? Vedi, te l'ho detto io. Sempre nello stesso? Sì, perché ti senti a casa. È tuo, è tuo, esatto. È tuo, è tuo. Esatto. Infatti a scuola nessuno voleva mai entrare nella stessa cabina che avevo appena usato io. Vabbè, quello è che... Vuol dire, se andando in bagno c'era qualcuno nel mio bagno, tra virgolette, io aspettavo che uscisse. Ah, pure? Sì, sì, sì. Perché trovano che le mie chiappette siano brutte. Ma non è vero, ma che c'è? No, non è vero, non stiamo parlando di chiappette. Eren ha detto, immagino il perché. Ma forse era perché era impraticabile dopo che passavi tu. Ah, beh, sì, è vero, facevo una vera caccona puzzona. Che figone. Tano, non è che, cioè, se mi spari tu allora va bene, se ti sparo io poi me ne vado a vivere la mia vita. Scappi, no, tu che scappi. Voglio vivere la mia vita, ero te i panni. Perché sai che contro di me moriresti, quindi scappi. Mi sembra di essere tornato nel 2017 con questo. Tec, lo sai che mi hai aperto un mondo? Ci sto ancora pensando, effettivamente non lo facevo soltanto a scuola, anche quando vado ai pub o al ristorante. Vado sempre nello stesso. Eh, lo so, lo so. Comunque la scena di Eren e gli altri che si dicevano, tipo a scappi, così mi ha fatto pensare alla foto di Vin Diesel. Eren e gli altri. Adesso che, eh, non mi ricordo con chi è che stavi baccagliando. La foto con Vin Diesel dove c'era scritto, tipo, adesso mi chiedi il perdono, ora che è uscito il ferro, ma non avrò pietà di te. E la pagina si chiamava, umorismo e reggaeton. Mamma mia! Mi fai riferimenti a caso. Ecco, ho preso mezzo cuore per questa cosa. Se scrivessi una pagina che si chiama umorismo e reggaeton. Va subito. Io subito. Sei un infelice. Perché rispammare le pagine che ti pagano nel video degli altri? Ecco. Tanto non è una pagina che esiste veramente. Secondo me esiste. No, 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 il nome della pagina era un altro, però sotto c'era pure il nome della pagina fittizio. Secondo me, se cerchi umorismo e reggaeton lo trovi davvero. Sicuro. Adesso l'hanno creata. Esatto. Come al solito. Sì, esatto. Domani ci sarà su Instagram città. Come Simone Cantano. Cioè, raga, non è che se noi diciamo adesso la creano e voi la create e noi siamo... Cioè, no. In realtà quello è un testo per vedere se siete boccaloni da crearla. Se siete boccaloni. Se bocchi qualcos'altro. Perché sperano che poi dopo andiamo a metterci like, no? No, no, non lo faccio. Ma come no? Dai, deludi così i tuoi fan? Sì. Sì. Sei cattivi, però. Raga, non è po' che questa mappa non la vedevo. Eh, mi mancava tutta la giungla. È vero? Tutti i vari oscelotti in giro. Ma Arampe c'è ancora o è morto? No, non credo che ci sia più oramai una roba. Ohia! Ohia! Oh, ma perché sparate? Eh, ma mi sparano già addosso. Ah, non sparate a me allora. Dani! Raga, sono un essere pacifico. Raga, io sento delle cose che non dovrei sentire. Danilo Gallinari. Oh, Danilo! Raga, sono un essere pacifico e anche atlantico. Raga, dove siete? Bannatelo da TS. Adesso, come hai fatto a capire la battuta se non conosci manco i nomi degli oceani? Cos'è un oceano? È una puzza d'acqua molto grande. Esatto. Come quella che lasciano le ragazze quando mi vedo. Stavo per fare la stessa battuta. È una puzza d'acqua che ci ha caduto un botto. Quello è il sangue perché tu sei un killer che le sgozza di me. Sono in Marder. È già qua, raga. Nel 2019 il mio canale chiude, io ve lo dico. È vero, è vero. Tec ha già deciso. No, ma la ragione è la puzza di sangue in Enzo Stunner Marder, ragazzi. Sì. La puzza. C'ha ita. Qualcuno è passato in un posto dove non c'entrava mai nessuno in passato. Adesso qualcuno ci va. Non è che c'è sopra il tunnel. Oh, hi! Ma si può? Tec. Tec. È bravo. Sappi che io nel mio inventario ho 5 executioner. 5 double barrel. Vabbè? Sì. E non ho paura di usarli sull'idea tutti quanti. Sì, ma non puoi mettermi 5. Cioè, davvero, tu sei lo schifo. Resti in rip. Dove sono i 5 che adesso vengo a prenderli? Vabbè, vabbè, erano tutti quanti carichi. Erano tutti quanti carichi. Ti dico che siamo tornati proprio all'era glaciale. Sai con cosa t'ho ucciso? Con l'L96. Quando è il 2019, ma è il più che è il 2016. I hope I can understand this battuta tu. Cos'è che c'hai dentro? Non c'avevi dentro tanta roba, però. Scusa. Dani! No, frizzino! Dani, no, frizzino! Come frizzino? Non c'è... Ehi! Cosa è successo? L'ho guardato negli occhi e gli ho dato il colpo di grazia. Eh... Beh, non vedrete mai questa kill perché Dani è cattivo e non registra le clip. La chi ma deve, però. No. Ah, ok. Ah! Tec, tu non mi hai chiesto, Dani, per favore, puoi registrare facendo... No, va bene, ti perdono. Tanto ti mandano tutti i miei fan. Andate sul canale di Dani e scrivete... Devi registrare le clip. Dovevi mandargli una mail e il suo manager doveva risponderti. Sì, esatto. Io non ho un manager, raga. Dovrei essere famoso. Sono io il tuo manager, cosa vuoi? Oh, Eren, posso andare alla fiera, quella che ti avevo detto? No, lavora e zitto. Cavolo, era proprio come il mio vecchio manager. Sì. In realtà volevo uccidere Tear usando le caramelle, però era troppo lontano. Uno li l'ho lanciata ma non ce l'ho fatta. Prendo solo caramelle alle amiche della gang. Questa meme era morta anni fa. Era morta nel 2016. Va bene, Eren, scusa, mi hai ferito i sentimenti. Ma dove siete, raga? Ma non li hai mai avuti. 23,33. Eren, se sei così indisposto verso le mie meme, allora vuol dire che non hai più bisogno che ti mandi le meme, quelle settimanali che ti piacciono tanto. No, Dani, cioè, io non mi rappoti così all'altezza, vorrei dire che ne potresti fare a meno. No, Dani, no, Dani. Quali sono le meme settimanali, scusa? No, non dili il nostro servizio segreto agli altri. Servizio segreto? Sono l'unico abbonato, sono l'unico abbonato, dai, basta. Caro abbonato, si distarga. Praticamente se mandi un messaggio al 48288 ti mando Bella Topolona Mamma mia, quattro con sei buona. Il Puccino Pio me lo mandi? Sì. Il radio. C'è un Puccino. E fa schifo. Raga, quanti soldi si faceva quello là di Loghi e suoneria? Cioè, quello che cantava? Aridatece la Gioconda. Sì, quello si chiama Vladi, tra l'altro. C'è la gente sulle pagine Facebook che scrive Ogni tanto lo vedo a Milano vorrei spaccargli la faccia. No, poverino. Io lo so che mi sono partiti 45 abbonamenti per colpa sua, però... Posso capire il disprezzo di questa persona. Anche perché io da piccolo una volta... Anche perché io da piccolo una volta... Anche perché io una volta da piccolo... Ma ragazzi, siete indecenti. Siete indecenti, davvero, eh. Eh, io non gioco quelle cose. Eh, in realtà, davvero, cioè... Roll fucking star! Uh! Ma siete pazzi? No, ma siete pazzi? Dall'Arzo, ma io ti colpisco che non te ne accorgi nemmeno o proprio non te ne prega nulla? È due di L96! Dov'è Tech? È due di L96! È proprio back to 2018! Questo è Tech 2018 di questa mappa, però. Cioè, se è voltato, l'ho fotografato, gli ho detto... Cheese! E invece era un piombo! Formato! Ricordate... Plata o plomo! No! Siamo tornati così nel 2018... Siamo tornati così tanto nel 2018 che adesso andiamo a registrare Fortnite per TR, però se non facciamo abbastanza kill il video si butta. Ah, cavoli! Uh! Non è vero così. No, 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 scappare, scappare! No! Mi ha frizzato! Mi ha frizzato! Mi ha frizzato! No! Muori! No, 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 no! Non corri, non corri, non corri! No, 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 no! Mi state frizzato! Mi si rompe! Non si... Ma cos'è? Non è ghiaccio! È ferro! È ossidiana! Madonna! Perché fate le cose, cattolo? L'ho rubata dal saluto, tra l'altro, la frizzina! Che c***o! Mi sono passate dieci minuti adesso, ragazzi! Attivate l'entità! Io non l'ho trovato un bel niente, comunque, in sta mappa. Tech? Dove sei? Quanta vita hai? Ti ho tirato una trasmitragliata piena. Sei morto, vero? No, no, è andata bene, è andata bene. Come sei la... Sono messo bene. Allora devo tirare una trasmitragliata? Tanno, vieni fuori. Ah! Orca puttpetta! Orca miseria, due cuori adesso! Oh mio Dio, io ne ho uno! Ah! T'ho preso? Eh sì, sì, che mi hai preso prima! Prima però! It's caramella time! It's caramella time! It's caramella time! It's caramella time! Wow! Once a caramella! Sì! Io ho paura, raga, di qua, eh! Dai, Ren, ti li mando, tranquillo! Che c***o! Oh! No, non mi sta frizzando! Non ho più cose! Voglio... Voglio... Voglio i bimini! Voglio i bimini! Ok! Eren, immagina mentre ti faccio un solletico alla pancia tipo Voglio i bimini! Voglio i bimini! Il vero di questa armia è che io posso colpire anche dove sei, ma non ti vedo! Poi tu, Eren, il solletico ti fa così tanto effetto che ti parte una scorreggina! Ma... Pfff! Di cosa stai parlando voi due? Dove sei, Tano? Boh! Di frattempo io sto lottando allo stremo con Tano! Con due cuori! Oh cavolo! Non voglio morire, non voglio morire! Il mio sogno è di uccidervi alle spalle entrambi, però non so neanche dove siete! Non so più dove sia Tano io! Cioè, devo attivare l'entità! Adesso attivo l'entità, attivo l'entità! Ah, vanno attivate? Eh sì, l'avevo detto mentre stavamo combattendo! Non... Non sono stato molto... Ehi! Scu, scu, scu! Scu, scu, scu! Grande! Flex for play! Is on the building! Scu, scu, scu! Comunque è stata una bella battaglia! Scu, scu, scu! Dio! E non è ancora finita, mi sembra! No! Assolutamente! Beh, però il video può finire qui, ci vediamo... Bella, alla prossima! Bella, rega! No! Tex, mettila! Sei ingustoso! Cioè, volevo frizzarle e poi ucciderlo! Ah! 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 Cioè... Devi smettere tantissimo! L96 Master! Adesso devo solo prendere Eren! Che funziona solo a te! Solo a me! Al primo colpo, tra l'altro! Eh! Vabbè! Ho un cuore, tipo! Quanto avevo, non lo so! Vabbè! Però, dovevo prenderti! Ti avevo fatto male, eh! Tonino! Non è vero! Mi ha fatto male Tech al primo scontro! Sì! Sì! Perché non ho visto che ti ho hittato all'inizio! Ah beh! Mi hai arrivato un cuore, capirai! Eh sì! Dove sarai, Eren Blazers? Eren Blazers? Non c'è! Non ti preoccupare! Sì, perché adesso basta che mi soffi addosso e mi ammazzi! No, ma anche io non sono messo bene! Il fatto è che è da un'ora che vi cerco e non so dove siate! Adesso ho paura, però! Porca! Ho capito dove sei adesso! Sarà impossibile prenderti con questo! Vi rovino la partitina! Non è! Oh! E' un avvertimento! Era tutto un fuoco di soppressione! Più o meno! Sopressi il fire! Ciao! Ah! Sono uscito di un filo! Mannaggia a te! Ah! Con due cuori! Dove eri che non t'ho visto? GG! L'ho rito! Te comunque hai fatto delle figate che a metà basta! Assurde! Va bene! GG! Comunque ragazzi! L96 Master is here! Quindi... Ragazzi ci vediamo al prossimo video! Ciao! Ciao! Bye!